siamo negli anni ottanta la chitarra che vedete è una echo thunderbolt t50 chitarra fatta dalla echo per soddisfare i rocchettari un bel pick up di marzio buff e al ponte di marzio super distortion adesso sentiamo come suonano il pick up al manico mi scegliamo due il pick up piccato subito il distortion di loro tonte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.